Non ci sono degli studi sul territorio nazionale, è difficile raccogliere i dati e poi soprattutto perché questa è una malattia silente. Consideriamo che più del 50% delle persone non sanno di avere l'epatite ancora oggi e la scoprono magari quando è troppo tardi. Se vogliamo dare un dato globale di quello che può essere, per fare un'idea, sul territorio nazionale si stima che ci siano circa più di un milione di persone che sono affette dal virus dell'epatite C e circa 300.000 possono già avere una malattia avanzata. A me piace sempre parlare più che di evoluzione e di rivoluzione di queste terapie perché effettivamente c'è stata una rivoluzione. Se consideriamo che fino al 2014 i pazienti venivano trattati con delle terapie lunghe perché duravano 12 mesi, alcune volte anche 18 mesi, con una terapia lunga che prevedeva un'iniezione e delle compresse, almeno 6 compresse al giorno, alcune terapie fino a 18 compresse al giorno e in più erano gravate da effetti collaterali e la risposta alla terapia era del 40-50%, oggi questa è completamente diversa. Le terapie sono semplici, una pastiglia, una compressa, massimo 3 compresse al giorno, 8-12 settimane di terapia, non ci sono praticamente effetti collaterali se non un po' di stanchezza e soprattutto la probabilità di guarire da questa malattia, da questo virus è oltre il 95%. Si può parlare di prevenzione, anzi bisogna parlare di prevenzione, direi che dobbiamo scindere la prevenzione in che senso? Nel senso che il paziente che ha eliminato il virus deve considerarsi come un paziente, come anzi un soggetto che non ha mai acquisito l'infezione, quindi deve fare attenzione a tutti quelli che potrebbero essere le cause di infezione, per fare degli esempi semplici bisogna fare attenzione a tutto quello che può venire a contatto con il sangue di un'altra persona che potenzialmente può essere infetta, proprio per quello che dicevo prima, il 50% non sa di avere questo virus, quindi attenzione a rasoi, attenzione a pinzette, attenzione a spazzolini usati in comune, naturalmente bisogna fare attenzione a siringhe, bisogna fare attenzione a tatuaggi, barbieri, estetisti che non usino quei criteri che possono prevenire la trasmissione del virus.